E' stato inaugurato sabato mattina con il classico taglio del nastro alla presenza delle massime autorità cittadine delle forze dell'ordine il nuovo ponte sul fiume Metauro, l'infrastruttura realizzata da autostrade per l'Italia nell'ambito del piano di opere connesse all'allargamento a tre corsie dell'autostrada A14 nel tratto tra Cattolica Fano e Fano Senigallia. Le attività di completamento del ponte dopo una breve interruzione sono andate avanti anche nella fase di emergenza sanitaria generata dal Covid-19 grazie all'attuazione di un protocollo di sicurezza che ha consentito di rispettare la data prevista di fine lavori. Oltre al ponte è stata aperta al traffico anche la bretella di tre chilometri che unisce la provinciale 16 all'aeroporto di Fano. L'opera d'arte che è costituita da questo ponte è un'opera dal punto di vista ingegneristico molto importante, è lunga 380 metri, ha 11 setti, 11 impalcati, è larga 11 metri 50 e poi alla fine la strada effettivamente con le sicurezze e tutto quanto sarà larga 10 metri 50 e quindi è un'attività dal punto di vista ingegneristico molto importante. Non è cosa di tutti i giorni assistere all'inaugurazione di un ponte che oltre a rappresentare una vera sfida ingegneristica ha anche un alto valore simbolico. Un ponte unisce due parti e supera gli ostacoli naturali. Questo ponte consentirà quindi alla zona sud di Fano di avere un collegamento più rapido col nucleo cittadino e ai San Costanzesi di avere una viabilità migliore sulla direttrice adriatica. San Costanzi più vicina a questa importante opera strategica è particolarmente importante per i miei concittadini la maggior parte dei quali lavora tra Fano e Pesaro quindi questa opera è fortemente voluta e aspettata da tanti anni ed è un piacere sapere che è stata inaugurata prima del tempo, cosa più unica che rara. Dopo questo taglio di nastro manca l'ultimo segmento, quello dell'aeroporto, per vedere completata una delle più importanti infrastrutture della città di Fano dal costo complessivo di oltre 50 milioni di euro. Una grande soddisfazione, è un'altra opera che si unisce a tante altre che abbiamo realizzato in questi anni quindi per un sindaco è veramente un giorno di orgoglio e di soddisfazione per aver raggiunto un altro obiettivo ma soprattutto per rendere una città migliore dove la qualità della vita migliora e dove le infrastrutture crescono.